Dal libro del profeta Ezechiele In quei giorni un uomo, il cui aspetto era come di bronzo, mi condusse all'ingresso del tempio e vidi che sotto la soglia del tempio usciva acqua verso oriente, poiché la facciata del tempio era verso oriente. Quell'acqua scendeva sotto il lato destro del tempio, dalla parte meridionale dell'altare. Mi condusse fuori dalla porta settentrionale e mi feci girare all'esterno, fino alla porta esterna rivolta a oriente, e vidi che l'acqua scaturiva dal lato destro. Mi disse, queste acque scorrono verso la regione orientale, scendono dal lato nella raba ed entrano nel mare. Sfociate nel mare, ne risanano le acque. Ogni essere vivente che si muove dovunque arriva il torrente, vivrà. Il pesce vi sarà abbondantissimo, perché dove giungono quelle acque, risanano. E là dove giungerà il torrente, tutto rivivrà. Lungo quel torrente, su una riva e sull'altra, crescerà ogni sorta di alberi da frutto, le cui foglie non appassiranno. I loro frutti non cesseranno, e ogni mese matureranno, perché le loro acque scorgono dal santuario. I loro frutti serviranno come cibo, e le foglie come medicina. Un fiume rallegra la città di Dio. Dio è per noi rifugio e fortezza. Aiuto infallibile si è mostrato nelle angosce. Perciò non temiamo se trema la terra, se vacillano i monti nel fondo del mare. Un fiume rallegra la città di Dio. Un fiume e i suoi canali rallegrono la città di Dio, la più santa delle dimore dell'Altissimo. Dio è in mezzo ad essa. Non potrà vacillare. Dio la soccorre allo spuntare dell'alba. Un fiume rallegra la città di Dio. Il Signore degli eserciti è con noi. Nostro baluardo è il Dio di Giacobbe. Venite, vedete le opere del Signore. Egli ha fatto cose tremende sulla terra. Un fiume rallegra la città di Dio. Dal Vangelo secondo Giovanni. Si avvicinava la Pasqua dei Giudei e Gesù salì a Gerusalemme. Trovò nel Tempio gente che vendeva buoi, pecore e colombe e là seduti i cambiomonete. Allora fece una frusta di cordicelle e scacciò tutti fuori del Tempio con le pecore e i buoi. Gettò a terra il denaro dei cambiomonete e ne rovesciò i banchi. E ai venditori di colombe disse «Portate via di qui queste cose e non fate della casa del Padre mio un mercato». I Suoi discepoli si ricordarono che sta scritto «Lo zelo per la tua casa mi divorerà». Allora i Giudei presero la parola e gli dissero «Quale segno ci mostri per fare queste cose?». Rispose loro Gesù «Distruggete questo Tempio e in tre giorni lo farò risorgere». Le dissero allora i Giudei «Questo Tempio è stato costruito in 46 anni e tu in tre giorni lo farai risorgere». Ma egli parlava del Tempio del suo corpo. Quando poi fu risuscitato dai morti, i Suoi discepoli si ricordarono che aveva detto questo e credettero alla scrittura e alla parola detta da Gesù.